Qualche giorno fa Michele ha incontrato nei nostri studi un artista che a Rai 1 è proprio di casa, scopriamo chi è. E adesso musica, uno dei suoi più grandi successi sotto questo sole, era un brano tutta allegria, uno degli artisti italiani più vulcanici, eclettici, simpatici, canta, balla, dirige, anima, co-conduce. Insomma, uno mattina con un altro brano, il suo ultimo lavoro, io come te Paolo Belli. Tutta uguale a me, spiccicata a me, alta stella, una modella, incredibile. Nel mio mondo non ci sei che tu, stesso sguardo, stesso sangue blu, due tatuaggi, tracce identiche, Tu come me, io come te, io come te, docce di mare, come i raggi del sole, Io come te, nel pene, nel mare, stessa fiamma nel cuore. Tutta uguale a me, incollata a me, cibo indiano sul divano irresistibile. Io trovate, non ti mollo più, più ti guardo, più so che sei tu, emozione indistinguibile. Tu come me, tu come me, io come te, io come te, docce di mare, come i raggi del sole, Io insieme a te, nel pene, nel mare, stessa fiamma nel cuore. Paolo Belli, io come te, io come te, evviva. Ciao Michele, buongiorno, buongiorno a tutti. Come stai? Sì, io bene, ma come stai tu, tutte le mattine qua, tutti i tuoi ragazzi, io sono, io a nome di tutti gli italiani vi applauso. Sì, no, qua è bellissimo, come te non c'è nessuno, però. Eh sì, grosso così, credo che di esserci solo di... No, ma assomiglia a qualcuno, hai preso da qualcuno. Io cerco di avvicinarmi a tutti i miei maestri, sai, i miei maestri sono stati Renzo Arbore, Fred Buscaglione, John Belucci, James Brown, cerco di... Però, eh. Se mi devo avvicinare, cerco di farlo con i numeri uno. Senti, il grande ritorno alla musica è il tuo. Abbiamo visto al concerto del primo maggio, sul palco di San Giovanni, tra l'altro con un progetto molto importante, credo, dedicato ai giovani italiani. Sì, sì, io, assieme alla mia produzione, vogliamo dare spazio ai giovani, vogliamo mettere un po' di benzina nelle macchine dei ragazzi, nel senso che, anzi, chiunque a casa ci sta guardando, se vogliono mandare le loro canzoni, noi cercheremo di trovare le più belle e le più belle faremo un disco assieme, in questo progetto che si chiama Giovanni e Belli, le notizie, le curiosità e tutto quanto lo potete trovare nel mio sito paolobelli.it e ci piacerebbe, poi i più bravi, portarli di nuovo sul palco del primo maggio. Grazie. Grazie.